E' arrivata! E' arrivata! Cos'è arrivata? La? Nonna? Nonna! Allora... E' dentro il box e la mamma madre? Dentro qua c'è la mamma box, vediamo cosa c'è dentro. Allora, l'apro con il principe e la principessa perché sono curiosi anche loro. Eeeh! 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 Vediamo cosa c'è dentro! Ma che Livia è curiosa, a tutti e due! Ma anche Livia è curiosa, vediamo che cosa c'è dentro, mi aiuti? Si! Togliamo questo nastro... Ci la conserviamo che è tutto d'oro! E' d'argento! E' bella, vero? Sì! Pronti? Oh! 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 Cos'è questa? Una zucca! La zucca di Halloween! Allora, vediamo cosa c'è... Allora, mamma mia qua! E' difficile questa volta! Allora... Guarda! Intanto c'è un ciuccio! Le stelline, quelle che ti erano piaciute l'altra volta! Wow! Anche! Anche! Hai visto? E questo? Questa è una pastina ad anellini da mettere nella minestra, vero? Questo che cos'è? Sì! Wow! Per chiudere il frigo! Questa Olivia non lo apre! E' tutto io! Solo tu perché sei più grande! Oh! Guarda! Un piattino per te! Ti piace? Che bello! Poi vediamo qua che cosa c'è... Quanto amore in questo abbraccio! Oh! Questa è una cosa difficile! Qua la devo aprire... Eh? Vediamo! E cosa c'è? Non lo so! Oh! Che bello! C'è scritto la mia mamma è unica! Però questo fa le vostre sentimenti della mamma! Scorrette! Che bello! La mia mamma è unica! Poi vediamo qua che cosa c'è! Oh! Un body! Questo deve essere un body! E' un body per Livia con uno scolto! E un torre? Aspetta aspetta! Adesso piano piano apriamo tutto! Questo! Ah! Questo è per... Ah! Questo è utilissimo! Questo è per appendere le borse al manico del passeggino! Cose introvabili! Questo è veramente utilissimo! Questo che cosa? Ah! Questi sono degli stickers! Che bello! Li mettiamo in cameretta! Questi sono i miei! E' di Livia! E' di Livia! E questo? Oh! Una bella pavetta per Livia! Guarda! Vediamo! Vediamo! E' soltanto questi! Eh no! C'erano i cereali per te! Eh sì! Ma è altre cose! Eh ma lo sai che è per Livia! Adesso guardiamo cos'altro c'è! Oh! Mettiamo questa bella pavetta a Livia! Ma che bella che sei con questa pavettina! La mettiamo a Claudio! Vediamo! Oh! Poi che cosa c'è qui dentro? Delle salviettine! Belle e utili! Ci sono degli sconti! In ogni prodotto c'è attaccato uno sconto! E c'è scritto dove si possono comprare! Benissimo! Utile! Bene! Poi! Qua c'è un altro sconto! Qua c'è un altro ciuccetto per Livia! Eh! Guarda! Un ciuccio nuovo! Poi aspetta aspetta che devo ancora provare questo! Ah! Questo da mettere nell'armadio! Vestitino profumato! Da mettere nell'armadio! Vedi? Per profumare l'armadio! Bene! Credo che abbiamo aperto tutto! Abbiamo fatto un po' di confusione! Questi sono anche i tuoi! Li puoi mangiare anche tu! E adesso diciamo tutti! Diciamo ciao alle ragazze di Nanabox! Bye! Ciao! Ciao! Ciao!